Ben ritrovati, apriamo il nostro TG Sud con la sezione della notizia del giorno, ci porta a parlare di donne, vita e libertà. Questo lo slogan più volte gridato in sala questa mattina a Trapani all'interno della Chiesa Sant'Agostino dagli studenti dello Sciascia Bufalino nell'ambito dell'iniziativa intitolata Disarmare il cuore per fermare ogni guerra, iniziativa promossa dalla Diocesi di Trapani. Vediamo di che si tratta. Un incontro stimolante che accende i riflettori sulle proteste nira nei diritti delle donne, quello che si è tenuto stamattina presso la Chiesa di Sant'Agostino a Trapani. Il convegno, promosso dall'Istituto di istruzione secondaria Sciascia Bufalino, in collaborazione con la Diocesi di Trapani, rientra nel percorso di disarmare il cuore per fermare ogni guerra, nato in occasione del primo anniversario della guerra in Ucraina. A guidare l'incontro, il gesuita Gianni Notari, direttore dell'Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe di Palermo, con gli interventi musicali del celebre violinista Mauro Carpi, accompagnato al piano da Toni Terrasi. Ma i veri protagonisti sono stati gli alunni dell'Istituto che hanno lavorato sul tema Nessuno potrà dire non sapevo, diremo sapevo, ma dalla protesta in Iran alla condizione della donna, diritti, dignità e pace, che hanno dato vita ad una commovente ed intensa performance attraverso i linguaggi dell'arte, della letteratura, della musica e della danza. La comunità ecclesiale ritiene questa una priorità, cioè è intollerabile che oggi nel mondo ci siano delle condizioni di esistenza che violano i diritti più elementari della persona. La donna ha una sua dignità e soprattutto la donna è colei che può dare un reale contributo alla trasformazione della società. Dunque si tratta di creare dei circuiti di ascolto dove il mondo femminile possa effettivamente alla pari interagire col mondo maschile per esprimere degli orizzonti di pace e di solidarietà. Le nuove generazioni possono effettivamente diventare protagonisti di cambiamento se conoscono la realtà in tutte le sue espressioni. Bisogna andare al di là di narrazioni semplicistiche per conoscere in profondità le radici dei problemi. Ecco, un convegno come questo è una buona opportunità per andare in profondità, comprendere la realtà dei fatti e individuare delle piste di trasformazione. Noi abbiamo lavorato con i ragazzi dal primo momento partendo dalla notizia quindi la protesta in Iran, le donne maltrattate, le donne picchiate, uccise, brutalmente uccise per poi arrivare alla situazione della donna in tutto il mondo e anche alla realtà quotidiana. Abbiamo lavorato con loro anche facendo delle attività da presentare oggi durante questo evento quindi dei brani cantati, delle letture, dei monologhi, delle testimonianze e ci siamo emozionati insieme a loro. È stato importante affinché la notizia non restasse tale ma divenisse un primo gradino da cui partire per cominciare a costruire qualcosa di concreto e far sì che appunto non rimangano notizie distanti da loro ma qualcosa che li coinvolga veramente dentro li faccia emozionare, li faccia sentire queste storie come se gli appartenessero. Tutte le altre notizie tra poco con la prima edizione. I titoli di oggi, amministrativa Trapani, le linee del Partito Socialista lancia una piattaforma programmatica con le priorità per il capoluogo e chiede il confronto agli eventuali alleati. Lavori di manutenzione alle fognature disposti dall'amministrazione comunale di Trapani nuovi interventi nelle condotte in diverse zone del centro urbano. BIT cala il sipario a Milano si è chiusa la 34esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo ed ancora studenti in scena i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Bassi Catalano in collaborazione con il Liceo Fardella a Ximene si hanno portato in scena una esibizione teatrale a chiusura di un progetto. Il settore giovanile Granata fa 3 su 3 parliamo di sport ovviamente tutte vittoriosi le formazioni trabanesi 15 gol della Juniors al Marsala e poi per l'approfondimento il recupero del sentiero delle mura Elimo Puni che ancora una volta ci affidiamo al nostro amare torrente per questo viaggio dalle nostre parti. Abbiamo il Tg invece con la politica e le questioni elettorali in vista del voto del 28 e 29 maggio prossimi i punti focali del Partito Socialista per il governo della città invitano le forze politiche al confronto sulle cose da fare anziché sui nomi da proporre. Vediamo. Il direttivo del Partito Socialista di Trapani riunitosi in questi giorni in vista delle prossime amministrative 2023 ha elaborato il presente documento programmatico su come i socialisti trapanesi vorrebbero fosse la propria città. I socialisti ritengono che prima di parlare di chi deve amministrare questa città occorre parlare ed avere una visione di come e cosa fare per il territorio. Il segretario comunale del PSI Salvatore Bevilacqua e la portavoce del Partito Corinna Vergilio hanno firmato un documento che viene posto all'attenzione dei futuri alleati e dei cittadini chiamati alle urne. Ed eccoli quindi i punti sui quali vorrebbero che le forze politiche che ambiscono ad amministrare il capoluogo si confrontassero. Priorità alla viabilità e al miglioramento del manto stradale. La ferrovia. I socialisti ritengono che il sottopasso sia un intervento discutibile tecnicamente ed auspicano un confronto di idee progettuali anche attraverso un mando pubblico sulla sistemazione del rapporto complessivo fra la città e la linea ferrata che possa prevedere lo spostamento in periferia della stazione e la successiva utilizzazione a contenitore culturale dell'attuale sede nonché la destinazione a zona verde attrezzata dell'area oggi occupata dalla linea ferroviaria. Le fognature, la rivisettazione del rete fognante e il suo adeguamento sarà un punto di rimente della prossima legislatura. Trapani Verde pensano a un efficientamento energetico degli uffici comunali e alla comunità energetica ed agricola. Potenziamento e miglioramento della raccolta e spazzamento dei rifiuti con sistemi manuali e meccanizzati. I socialisti puntano su una città dove Trapani sia cultura e che si occupi di realizzare eventi e festival aventi ad oggetto l'arte, la musica, la danza e il cinema utilizzando in modo trasversale le strutture adatte all'interno della nostra città anche quelle dismesse. E ancora Trapani e lavoro pensano alla creazione degli office point o potenziare i centri per l'impiego ed infine Trapani, lo sport e la movida puntano alla riapertura dei centri sportivi sfruttando il loro potenziale e la posizione strategica anche nell'ottica dell'efficientamento energetico e a una movida che trovi un punto d'incontro coerente per soddisfare le esigenze degli abitanti dei titolari di locali e dei giovani. I socialisti trapanesi chiedono che, almeno su questi punti e altri ancora, si possa condividere una candidatura. Rimaniamo nell'ambito della politica e il coordinamento provinciale di Trapani di azione di calenda composto da Salvatore Quinci, Vito Milazzo e Giorno Serio Simonte ha proceduto ad una prima nomina di coordinatori comunali e nello specifico, al momento, sono stati nominati i coordinatori dei comuni di Trapani, Erice e Valderice. Si tratta per Trapani di Giulio Vulpitta dovremmo avere una fotografia dei tre per Erice di Alessandro Gianfortone e per Valderice, invece, di Francesco Giurlanda. La fotografia non c'è, ma comunque adesso magari più tardi ve la facciamo vedere. Questa è una prima tornata di nomine che saranno completate nei prossimi giorni dicono appunto Simonte, Milazzo e Quinci e ringraziano appunto Gianfortone, Vulpitta e Giulanda per la loro disponibilità a lavorare per la crescita di azione nel territorio della provincia di Trapani. A Pantelleria, invece, i carabinieri hanno arrestato un 29enne sbarcato sull'isola con droga nello zaino. I carabinieri della stazione di Pantelleria diretti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un isolano di 29 anni disoccupato con precedenti di polizia nell'ambito di servizi periodicamente messi in atto dai militari dell'arma presso gli scali portuali e aeroportuali volti al controllo dei cittadini che approdano sull'isola. È stato sottoposto a perquisizione personale il 29enne appena sbarcato presso il molo Voitira da un traghetto proveniente da Trapani. All'esito di predetta attività i carabinieri hanno rinvenuto occultati all'interno di uno zainetto nella disponibilità del giovane due involucri di sostanza stupefacente tipo hashish del peso complessivo di 190 grammi e ulteriori due involucri contenenti cocaina per il peso di un grammo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata dai carabinieri mentre il 29enne è stato tratto in arresto. All'esito dell'udienza di convalida l'uomo è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e al divieto di allontanarsi dal proprio domicilio nelle ore notturne così come disposto dal GIP del Tribunale Lili Betano. Sono partiti a Trapani i lavori ulteriori per la manutenzione degli impianti fognari. Vediamo proprio le zone che saranno interessate da questi lavori. Affidato allo studio due costruzioni un nuovo e importante lotto di lavori fognari urgenti le cui operazioni prendono il via oggi. Numerosi gli interventi previsti derivanti sia dalle segnalazioni pervenute dai trapanesi che dal consueto monitoraggio del territorio ad opera degli uffici. Nel dettaglio, al fine di risolvere nuove criticità emerse a seguito delle piogge dello scorso autunno particolarmente rilevanti, si interverrà nelle vie di Vio Bassi, Emilia Romagna, Segesta, Petrella, Eoli, Ciotta, Capitano Sieli, Cristoforo Colombo, Via dell'Uva, Cappuccinelli, Villanova, Madonna di Fatima, Nove Maggio, Aristofane, Baluardo della Giarrotta, dell'Eurea di Capitano Verri ed altre. Si tratta dell'ennesimo intervento disposto dall'amministrazione comunale di Trapani sulla manutenzione straordinaria delle fognature della città che, come è noto, necessiterebbero di finanziamenti imponenti che non possono gravare sul bilancio comunale per una completa e necessaria rimessa a nuovo. Il sindaco Tranchida ha fatto sapere di non avere mai abbassato l'attenzione nemmeno nei momenti più difficili continuando a programmare opere di manutenzione sulle fognature sebbene con i fondi esigui anche per evitare di gravare sulla tassazione cittadina disponibili sul bilancio impegnandoli nel miglior modo possibile al fine di alleviare criticità. Dopo gli interventi disposti nel 2020, 2021 e 2022 quello che parte oggi è un nuovo ciclo di opere che va ad aggiungersi a quanto già effettuato nello scorso autunno. Il sindaco Tranchida ha quindi auspicato che sia da Palermo che da Roma dove ancora non è stato adottato il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici giungano risorse concrete per consentire ai comuni di effettuare interventi imponenti ormai indifferibili ed urgenti per adeguare ai mutamenti climatici gli obsoleti sistemi fognari e di smaltimento acque bianche cittadine come nel caso di Trapani. Tutte le altre notizie tra poco nel secondo blocco informativo del TG Sud. E adesso parleremo della BIT di Milano il racconto della nostra redazione proprio che è stata presente in parte ovviamente alla Fiera Internazionale del Turismo a Milano dopodiché questo servizio sugli studenti in scena parliamo dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo Bassi Catalano in collaborazione con il liceo Fardella Ximenez e poi tra le altre cose spazio anche allo sport. Ma ieri si è chiusa la 43esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo questo è il racconto dell'ultima giornata curato dalla nostra redazione che era presente a Milano. Ultimo giorno ieri a Milano della 43esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo che ha visto protagonista il progetto The Best of Western Sicily ideato dall'agenzia Feedback e promosso in collaborazione con Telesud che ha riunito 14 partner sotto un'unica insegna Gambero Rosso Mare Blu e Sole Giallo Intenso sono stati focus intorno ai quali si è articolato l'appuntamento dedicato al comune di Mazzara del Vallo una presenza fortemente voluta dal primo cittadino Salvatore Quinci ascoltiamolo ormai abbiamo chiaro da tempo che i territori si muovono tutti insieme per fortuna è finito il tempo dei campanili in cui ciascuno cercava il piccolo spazio di visibilità oggi la Sicilia occidentale ha da offrire tutta insieme come provincia esperienze di tipo variegato completo che vanno dall'enogastronomia ai monumenti da guardare alle bellezze storiche e architettoniche e al mare alle esperienze di archeologia anche subacquea insomma davvero un territorio da scoprire e da vivere davvero completo noi siamo molto soddisfatti dell'iniziativa che tutti i sindaci abbiamo preso insieme per questo angolo che è il meglio della Sicilia occidentale e ne siamo veramente felici a seguire è stato presentato dall'assessore al turismo dell'ex borgo marinaro Nino Ciulla il calendario degli eventi del comune di San Vitolo Capo che si svolgeranno da aprile ad ottobre dalla cara podistica Vivi Città al Festival degli Aquiloni che si svolgerà ai primi di giugno ed ancora lo sport anche come momento di inclusione sociale con il weekend dello sport Zero Barriere e la storica Libri Autori e Buganville di Giacomo Pilati ma The Best of Western Sicily ha avuto anche un fuorifiera lunedì come da tradizione da Filippo Lamantia Oste Cuoco lo chef palermitano ormai meneghino d'adozione ha rimarcato ai nostri microfoni che quando si parla di sicilianità lui è sempre in prima fila Diciamo che la Sicilia me la porto sempre a presto dovunque comunque mangio tutti i giorni siciliano palermitano propongo la nostra cuscina ormai da 28 anni fuori però quando ci sono queste occasioni per festeggiare la provincia di Trapani sono sempre molto orgoglioso di appartenere a questa comunità soprattutto di San Vitolo Capo Tra l'altro presenta la BIT la Borsa Internazionale del Turismo in questi giorni assolutamente come in realtà ci siamo fatti valere quindi insomma quando si parla di eccellenze non potevamo che parlare anche di te la provincia di Trapani è ricchissima di materia prima di mani dell'uomo che coltivano la terra poi c'è gente meravigliosa ospitale soprattutto quindi diciamo che fare gruppo in questo caso è molto importante e vedere tutti i comuni stasera qui è molto bello una serata con tutti i partner del progetto ma anche la stampa di settore ralegrata da Ringo uno dei più noti DJ italiani assai legato ai territori della Sicilia occidentale tra un cambio di disco e l'altro 30 secondi solo per dire che questa festa è una parte di Sicilia che tu conosci molto bene perché vieni spesso quindi stasera la celebri un po' con la musica io per forza di cose uso la musica Filippo usa la cucina e i siciliani usano il calore mi ci vedo molto bene in quella terra in quell'isola quindi direi che stasera a Milano è tutto perfetto insomma un grande successo fuori e dentro Fiera Milano City per un progetto che riscuote di anno in anno sempre più interesse dagli addetti ai lavori del comparto turistico termina la borsa internazionale del turismo anche per il distretto turistico della Sicilia occidentale la fondazione era ospite dell'area Sicilia al padiglione 3 di Fiera Milano City tour operator blogger giornalisti della stampa specializzata ed operatori di settore sono stati presenti in questi altri giorni al distretto turistico della Sicilia occidentale che si è chiusa ieri a Milano il grande stand messo a disposizione dalla regione con il desk di riferimento ha consentito di raccogliere lusinghiere attenzioni e di far conoscere le tante proposte della destinazione West of Sicily un brand ormai riconosciuto da operatori nazionali ed internazionali la Sicilia occidentale è diventata riferimento di molte produzioni cinematografiche e televisive ben 18 in tre anni oltre che di campagne pubblicitarie di grandi marchi nel campo della moda che hanno scelto gli angoli più suggestivi del territorio nelle 2023 saranno quattro le produzioni cinematografiche e fiction tv che vedranno protagonista ancora una volta questi luoghi Amazon con una serie su Il Gatto Pardo e Netflix con altre due puntate di Macari hanno deciso di tornare e investire qui avendo trovato location naturali ideali e più consone alle loro esigenze e anche la disponibilità di professionisti artigiani e maestranze ma se il cinema ha fatto da richiamo il valore del brand è ormai consolidato il distretto sta lavorando per posizionarlo ancora meglio nei mercati internazionali anche l'assessore regionale al turismo Ilvira Amata è stata vicino al distretto turistico della Sicilia occidentale noi l'abbiamo ascoltata assieme al presidente della fondazione Rosalia Dalì è ovvio che questa è una vetrina importantissima per la Sicilia per i portatori di interesse per gli operatori turisti per tutti coloro che hanno deciso di restare in Sicilia e di investire in Sicilia quindi questo le istituzioni glielo devono e devo dire che il risultato è veramente grandioso sono molto soddisfatta e ringrazio tutti coloro che hanno permesso questa bellissima diciamo vetrina siciliana noi daremo un'offerta dal 2024 ai turisti nazionali ed internazionali perché oggi c'è un ritorno degli stranieri importanti in Sicilia dove dal primo di gennaio al 31 dicembre sapranno cosa c'è in Sicilia in Sicilia ci sarà arte ci sarà musica ci sarà spettacolo ci saranno eventi ci sarà anche molto caldeggiato quel segmento del turismo lento dei cammini che è un altro modo di avvicinarsi e di accostarsi alle nostre bellezze bellezze sia naturali sia architettoniche sia archeologiche e perché no al turismo del cibo io colgo l'occasione per ringraziare l'assessorato regionale del turismo l'assessore ma tutto lo staff perché oggi noi come Sicilia Occidentale come DMO avere il privilegio di essere insieme nello stand sotto il brand sotto il grande brand Sicilia rafforza la nostra promozione e la nostra offerta siamo perfettamente in linea sull'importanza di fare turismo e fare anche cultura perché sono assolutamente collegate tant'è che adesso il nostro evento quest'anno l'anno scorso era la terra del Florio quest'anno noi portiamo dal Gattopardo fino a Macari 60 anni di cinema e letteratura in Sicilia Occidentale proprio in virtù di questa linea anche politica che ci viene suggerita dall'assessore che torno a ringraziare ieri pomeriggio si sono conclusi due progetti scolastici realizzati dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Bassi Catalano in collaborazione con il Liceo Fardella Ximenes si è tenuta presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Bassi Catalano un'esibizione teatrale scenata dai giovani studenti a conclusione dei due progetti sperimentali realizzati in collaborazione con il prezioso contributo del Liceo Fardella Ximenes si tratta in latino rumoscena insegnamento sperimentale del latino nella scuola secondaria di primo grado e sperimentando potenziamento scientifico abbiamo realizzato due progetti di sperimentazione didattico-educativa finalizzati ad un orientamento consapevole il primo in latino rumscena prevede l'avviamento allo studio della lingua latina in una chiave assolutamente moderna innovativa proprio per orientare i ragazzi che hanno degli interessi nei confronti degli studi classici il secondo che era esperimentando ha previsto la realizzazione di attività di tipo laboratoriale la particolarità dei due progetti è che hanno coinvolto sia gli studenti della scuola secondaria di primo grado Bassi Catalano che gli studenti e i docenti del Liceo Fardella Ximenes che colgo l'occasione per ringraziare l'obiettivo è appunto preorientare gli studenti ad una scelta consapevole e allo stesso tempo finalizzare queste attività per un concreto contrasto alle sempre più crescenti problematiche connesse alla dispersione scolastica la risposta dei ragazzi alla partecipazione al progetto grande entusiasmo senso di protagonismo ma soprattutto motivazione è questo che rende ogni sacrificio fatto a scuola non vano è questo che dà lo spirito giusto per poter andare avanti vederli crescere vederli protagonisti del loro reale apprendimento l'obiettivo sicuramente è quello di catturare l'attenzione dei ragazzi rispetto al tema classico umanistico che comunque sempre di più avverte un calo di interesse da parte della nuova generazione questo progetto come ha detto la collega nasce da una sinergia fra le due istituzioni e ha un compito di orientare verticalmente i ragazzi però nell'ambito di un momento in cui gli studi classici e umanistici sono in difficoltà in maniera non del tutto giustificata perché quello che vogliamo dire noi come liceo classico e liceo scientifico è quello che tutti gli studi consentono di poter affrontare il proseguo degli studi quelli universitari in maniera consapevole io ho degli studi tecnici e scientifici però è chiaro che una conoscenza profonda della lingua latina e dei concetti classici consente maggiore capacità di affrontare qualsiasi tipo di testo e quindi un'apertura mentale veramente ampia da questo punto di vista anche gli stimoli che si è dato in questo progetto sono particolari il classico latino entra nel mondo anche dei giovani dei veri sentimenti ecco lì sta il segnale che abbiamo voluto dare fermo restando che tutti gli studi l'importante che siano fatti bene sono validi vi ricordo l'edizione della sera le 19.40 ma da qua da allora tutte le notizie le potete seguire sul nostro sito quelle che vi abbiamo appena dato in questa edizione ma anche le altre della giornata il nostro sito www.trigio per gli appuntamenti invece televisivi sulla nostra emittente questa sera un'altra serata in compagnia dello sport alle 20.30 la partita Secuil Fox Ferrara contro la Handball Erich e poi alle 23 invece mandano in onda la partita fra Rieti e la Pallacanestro Trapani a proposito di sport tra poco lo sport il suo gol sorteggiato fra i più belli dell'ultima giornata ha consentito al Trapani di chiudere su 3-0 contro il Canicattì per Agostino Mascari si tratta del terzo gol in campionato il commento sulla rete e sul momento dei suoi è stato un gran gol a quanto quanto sembra perché non l'ho visto bene ero a testa sotto quindi sono arrivato ad accompagnare l'azione abbastanza stanco anche perché era il 93 se non sbaglio quindi c'è un po' la vista fuscata però appena la palla si è alzata già sono andato con l'intenzione di fare la rovesciata ed è andata bene vincere è sempre un'ottima medicina ti fa vedere le cose in maniera diversa e ti fa affrontare la settimana in maniera diversa magari quello che fino a poco tempo fa quell'episodio che fino a poco tempo fa ci andava storto adesso ci va a favore quindi ripeto continuare a fare così è importantissimo sia per noi a livello di squadra che anche a livello di città di piazza e di piazza e adesso vediamo tutte le vittorie per la formazione giovanile del Trapani 15 gol della Juniors l'Under 17 invece ne ha fatte appena 7 fine settimana da urlo per il settore giovanile Granata benché non valga la classifica la formazione Juniors prosegue nel proprio ruolino di marcia impressionante con 16 vittorie in altrettanti match di campionato testa coda con il Marsala che in classifica ha 0 punti e che subisce 15 gol 5 le reti di Lampasona tra gli altri e Tripletta di Ngir a segno anche Scavone Scardina Contè Casano Buonanno e Bargione grande prova di forza invece degli Under 15 che in trasferta si impongono 3 a 0 sul campo del Renzolo Piccolo Terrasini le reti sono arrivate tutte nel corso del primo tempo con un autorete a sbloccare il punteggio ci hanno pensato poi Saitta e la Monica a chiudere la contesa il Trapani resta in corsa per uno posizionamento nella griglia playoff in quinta posizione Trapani terzo tempo 7 a 1 è il risultato larghissimo dei granata di mister Peppe Culcasi Ilari aveva portato in vantaggio i suoi ad inizio ripresa la doccia fredda con il pareggio di Zumo Ettari Ammucciato autore di una doppietta Spanò e Bongiovanni permettono al Trapani di restare in terza posizione 25 gol distribuite tra le tre formazioni in un weekend da incorniciare Entrambe impegnate fuori dalle mura amiche le formazioni della Virtus Trapani hanno rimediato una sconfitta nei rispettivi campionati Le maggiori formazioni della Virtus Trapani si sono presentate incerottate i rispettivi impegni di campionato nel quarto turno del girone di ritorno di Serie C femminile sconfitta onorevole delle ragazze di coach Pellegrino a Ragusa la Di Maiora si è imposta 46 a 39 approfittando anche delle essenze pesanti delle Virtusine che hanno dovuto fare a meno di Lombardo Dagoanno Buzurro e Cipolla la compagine trapanese stava conducendo fino alla fine del terzo quarto a complicare le cose l'infortunio in partita di Capitan Romeo che dovrà stare fuori per tre settimane e migliore realizzatrice con Zangara con 12 punti a referto onore comunque alla benegazione delle trapanesi che hanno ceduto solamente alla fine rimangono 4 i punti in classifica prossimo impegno al Palavirtus contro Profumeria del Corso terza forza del campionato a dover far fronte anche alle indisponibilità fisiche la Serie D maschile solo 7 gli iscritti a referto come 7 sono stati punti di svantaggio al termine del quarto quarto contro Sant'Agata partita equilibrata fino alla metà del terzo quarto quando la squadra di casa quarta in classifica ha prodotto un break che gli ha portati vantaggio di 20 punti lodevole il tentativo di rimonta dei giovanissimi gialloblu che sono riusciti a contenere la sconfitta in termini accettabili rimane il grande rammarico di non aver potuto contare per l'ennesima volta sull'organico a completo cosa che avrebbe potuto consentire una distribuzione di minuti giocati adeguata per gli uomini di Cocci Genovese Peraino ha chiuso con 25 punti Mario Torrente in questo approfondimento ci porta ad Elice perché sono entrati nel vivo i lavori per la riqualificazione del sentiero delle mura elimopuniche vediamo si tratta del suggestivo percorso che partendo dalla matrice nei pressi di Porta Trapani costeggia il Bosco del Monte arrivando fino al quartiere spagnolo e quindi nel versante che guarda verso l'agroiricino questo itinerario da dove passa il sentiero Italia del Cai nella prima tappa siciliana da Trapani a Elice permette di ammirare la maestosa e ultramillenaria Cinta Muraria uno dei monumenti più antichi della Sicilia con i suoi massi megalitici i torrioni le postierle con un carico di storia leggenda e tanti segreti come le lettere puniche impresse tra un blocco e l'altro un percorso unico nel suo genere autenticamente tra natura e archeologia che nell'ambito dei lavori disposti dal comune di Elice sarà rimessa a nuovo con lavori di pulizia del sentiero e ripristino dell'impianto di illuminazione il che permetterà di camminare in questi viali anche di notte con la suggestiva location delle mura avvolte nell'oscurità e con un gioco di luce e ombre quasi magico il rupe che sta seguendo il cantiere è Giuseppe Tilotta dirigente del comune di Elice mentre il direttore dei lavori è il geometra Giorgio Di Stefano nell'ambito dei lavori finanziati per un importo di 200.000 euro nella misura 7.5 dei fondi comunitari oltre alla riqualificazione del sentiero dalla matrice al quartiere spagnolo poco meno di un chilometro di itinerario è prevista anche la predisposizione di un sistema di videosorveglianza la realizzazione della staccionata il rifacimento di qualche gradinato in legno ed interventi nella barita comunale di Capollinis sede del CAI di Elice ma oltre a questo progetto ce n'è un secondo in itinere sempre presentato dal comune di Elice che punta invece alla pulizia del Bosco del Monte il diritto di finanziamento per una spesa prevista di circa 600.000 euro è arrivato nel settembre 2021 e adesso si resta in attesa della VAS da parte della regione dopodiché andrà in appalto i fondi sono arrivati da un progetto per la valorizzazione aree natural 2000 predisposto dagli uffici del comune di Elice con il coordinamento dell'assessore Gianni Mauro lo stanziamento permetterà di mettere in campo degli interventi mirati a salvaguarda del Bosco Antico con la pulizia ed il risanamento degli alberi anche per quel che riguarda le piante infestanti previste pure delle azioni nei giardini del Baglio c'è poi un terzo progetto per un altro milione di euro che riguarda la ex stazione d'imbarco della funivia che si trova proprio all'inizio del sentiero delle mura e limopuniche proprio davanti la matrice complessivamente gli investimenti previsti attorno al cordone verde di Elice ammontano ad oltre 2 milioni di euro si attende infatti anche il diritto di finanziamento per un progetto di circa 500 mila euro per interventi antincendio il tutto con l'obiettivo di salvaguardare e riqualificare il Bosco del Monte che da anni attende interventi di manutenzione straordinaria per la sua valorizzazione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti